Individuato e responsabile di una serie di atti vandalici avvenuti nel 2017 in Vallentelbi, si tratta di un ragazzo di 24 anni. L'indagine è stata condotta dai carabinieri della compagnia di menaggio, in particolare dai militari della stazione di centro Vallentelbi con il contributo del RIS di Parma, che ha analizzato e confrontato i campioni biologici raccolti. Il giovane sarebbe responsabile del raid vandalico avvenuto l'8 dicembre del 2017, 5 auto danneggiate, 3 incendiate, 2 distrutte, sassate a Pigra, una legnaia incendiata sempre a Pigra durante la stessa notte e infine 3 auto bruciate a Blessagno l'8 aprile dello stesso anno. Secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, le vittime degli atti vandalici non si conoscevano tra di loro, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per verificare se il giovane, magari in concorso con altri, possa essere responsabile di analoghi eventi criminosi. Al momento il 24enne è stato denunciato a piede libero, non si tratta però dell'unico episodio accaduto in Vallentelbi. A settembre dello scorso anno decine di vetture erano finite nel merino dei vandali. Gomme bucate, carrozzerie gravemente danneggiate, fari, parabrezza e vetri delle vetture presi ammazzate e sassate. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri erano riusciti ad individuare i responsabili denunciati 5 ragazzi, 3 dei quali minorenni. Grazie a tutti.